. Cecilia Rodriguez si confida con Giulia Delellis, quando finirà il grande fratello Vip Andro a Taranto da Francesco Monte. Giulia Delellis dalla parte di Francesco Monte, i consigli per Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser. Giulia Delellis ha affrontato con Cecilia Rodriguez al grande fratello Vip un discorso molto importante. In particolare, l'ex corteggiatrice ha mostrato tutto il suo appoggio a Francesco Monte. Quest'ultimo fuori sta osservando come Cecilia sta mandando avanti la sua nuova relazione con Ignazio Moser. Pertanto, Giulia si mostra particolarmente preoccupata per il cuore di Francesco, sebbene in passato abbiano avuto degli screzzi. La Rodriguez ha, più volte, dimostrato la sua tristezza nel pensare a Monte che soffre per questa situazione. Nonostante ciò, l'Argentina ha scelto di continuare a portare avanti il suo rapporto con Ignazio, provocando polemiche e critiche. La Delellis ha consigliato Cecilia a non correre troppo con Moser, poiché fuori cè Francesco che potrebbe soffrire troppo. In particolare, Giulia le ha chiesto di riflettere sul suo rapporto con Ignazio. Secondo la Delellis la scelta della Rodriguez potrebbe essere stata dettata esclusivamente dalla situazione dentro la casa. Inoltre, Cecilia confessa a Giulia la sua intenzione di andare a trovare la famiglia di Francesco a Taranto, una volta fuori dalla reality. Cecilia Rodriguez vola a Taranto dopo il grande fratello Vip. Quando dallo studio parlano di voi come coppia bellissima che fa sognare, io penso a Francesco. Hai chiuso una relazione ne hai aperto un'altra, subito. Non era necessario. È così che Giulia ha cercato di frenare Cecilia nel rapporto con il Moser, soprattutto perché fuori Francesco potrebbe soffrire. Ma non solo, la Delellis si preoccupa anche di Ignazio. Non correre però con Ignazio, non rischiare di ferirlo. Magari poi lui ci resta sotto e a te ne anche piace abbastanza. Poco tempo dopo, Giulia ha domandato a Cecilia se ha intenzione di parlare con Francesco una volta uscita dal reality. L'Argentina ha risposto che probabilmente lui non vorrà parlare con lei. A questo punto, la Delellis ha insistito, ma tu lo farai? Ma Cecilia non dà una risposta concreta, ammette solo di essere convinta che Monte non vorrà chiarire. Cecilia Rodríguez triste per Francesco Monte, ma la sua relazione con Ignazio Moser continua. Perché non dovrebbe parlare con te? Chiede Ignazio, ingenuamente, forse non comprendendo bene la situazione. Ma Cecilia annuncia che una volta finito il reality, chiamo tutti. Prendo un aereo e vado a Taranto. Giulia, però, le consiglia di chiamare prima di presentarsi di persona. Monte potrebbe, anche questa volta, apprezzare le parole della Delellis. Già qualche settimana fa, Francesco aveva annunciato di essere grato a Giulia per i consigli dati a Cecilia. Grazie a tutti.